Via del Fiume sembra vedere una luce in fondo al tunnel, avete intitolato così il comunicato stampa con il quale avete annunciato un passo avanti per questa strada fanese. Ed è arrivata infatti la prima risposta ufficiale alla vostra segnalazione. Sì, ci tengo infatti a riferirle ai cittadini, l'Udc si è fatta carico della richiesta dei residenti ma anche non residenti che utilizzavano Via del Fiume, è una strada che conosciamo tutti, abbandonata da diversi anni e molto pericolosa tra l'altro, è bisognevole di molti interventi. Per cui noi ci siamo fatti carico di questo e abbiamo iniziato un percorso documentale con l'assessorato ai lavori pubblici, finalmente qualche giorno fa è arrivata la risposta, è una risposta positiva, una luce in fondo a un tunnel, esattamente, e l'assessorato ai lavori pubblici attraverso l'assessore Brunori ci dice che a seguito della nostra segnalazione stanno inserendo Via del Fiume nel attuale programma nuovo per le asfaltature. Dopodiché stanno vedendo attraverso gli uffici tecnici quello che c'è da fare per quello che riguarda i percorsi, un percorso ciclopedonale perché purtroppo quella è una strada pericolosa anche per chi va in bicicletta, ma anche per persone che vanno a piedi, spesso è stata utilizzata anche da mamme con passeggini, perché lungo quella via ci sono delle abitazioni verso Via Mattei ed è l'unico percorso dove i residenti possono utilizzare per raggiungere le proprie abitazioni. Stessa cosa per l'illuminazione, giusto? Sì, esatto. Hanno detto che avrebbero anche rivisto l'illuminazione perché noi gli abbiamo detto che l'illuminazione che è stata fatta da poco con i led non era così sufficiente, quindi l'avrebbero rivista anche quella lì in un nuovo programma che stanno vedendo attraverso gli uffici tecnici. Per cui detto questo noi comunque sia seguiremo la situazione perché queste sono risposte ufficiali, sono atti ufficiali, sono impegni ufficiali e quindi questo ci dà la possibilità di seguirli proprio in vista di una effettiva concretezza nella realizzazione.